Poiché di fianco alla grande storia scorre il disegno quotidiano minuto che fa da trama alla realtà, ho cercato per ogni vicenda del 1917 e per ogni protagonista quei particolari e combinazioni di particolari che fanno scoccare la scintilla, come dice Nabokov, e senza i quali un racconto è inerte. Perché ha accettato di leggere per noi l'audiolibro? Perché credo negli audiolibri, penso che sia un mercato che possa soltanto crescere in Italia e che sia molto adatto soprattutto per i giovani che si spostano, che viaggiano, che usano i treni, che usano le scarse metropolitane del sistema italiano e quindi penso che sia un sistema per allargare la lettura e che sia un mezzo di fruizione a cui forse i ragazzi sono più abituati degli adulti perché sono sempre con le cuffie nelle orecchie, sono abituati a usare le auricolari. Penso che sia giusto usare anche questo canale di comunicazione per ciò che si scrive. L'obiettivo è sempre lo stesso, cercare di fare della buona scrittura per una buona lettura e credo che tutti gli strumenti siano utili, lo strumento dell'articolo giornalistico, lo strumento dei corti su Repubblica TV che abbiamo fatto, il libro per chi vuole approfondire e conservare e l'audiolibro per chi preferisce ascoltare. A lei personalmente questa esperienza di lettura in sala di registrazione cosa ha dato? Mi dà il senso del fluire del racconto, mi dà un senso di insieme, mi dà la possibilità di entrare più dentro, di farlo col cuore diciamo così, ma mi dà anche la possibilità di ascoltarmi da fuori. Per un tecnico della scrittura come un giornalista, un cronista è stupefacente come la voce ti porta alla luce delle alliterazioni o delle ripetizioni che l'occhio pur avendo letto parecchie volte non coglie. Com'è nato questo progetto? Questa storia del centenario mi è arrivata addosso all'improvviso e mi sono detto quando tornerà un'occasione così potente di rimmeggersi dentro la storia russa, riprendere tutta la letteratura, unire tutto quello che sapevo, che credevo quiescente, lasciato da parte con l'immensità di quello che non sapevo ma che potevo studiare. Io ho avuto una proposta di scalfare di andare in Russia all'inizio di settembre dell'87, ho avuto tre mesi di tempo per studiare il russo al mattino e la Russia al pomeriggio, ho preso un cartoncino dei miei, ho scritto in un angolo c'è del metodo in questa follia, mi sono fatto i quattro quadranti che dovevo esplorare, cultura, politica, economia e società, ho cominciato a studiare, a leggere, a studiare, a studiare. Credo che il tentativo abbastanza nuovo sia proprio quello di provare a fare il cronista di un fatto di cent'anni fa, di andare nei posti, non usare internet, cioè non prendere delle verità preconfezionate, dei racconti già fatti, ma lavorare su libri possibilmente coevi, libri vecchi, fortunatamente ne avevo parecchi e facciano parte della mia ossessione per la Russia. Quindi lavorare sui libri fino a farsi un proprio tracciato degli eventi e avere talmente tanti elementi da poter fare una narrazione autonoma. E poi man mano dal giornale si sono sviluppate queste diverse declinazioni. Un mio amico mi ha detto un esempio di cross-medialità, è vero. E infatti la bellezza di questo progetto è che uno studio vecchio, che era ormai inerte, è come se fosse stato attraversato da un lampo che l'ha rimesso in movimento, lo ha revitalizzato, no? E quindi la Russia dentro di me di nuovo viva, mentre prima era una presenza come un amore lontano.